Buonasera e ben trovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura. La cronaca, ancora una serata di tensione in piazza della Badia ad Arezzo, teatro in passato di diversi episodi di cronaca. Stavolta però la mala movida non c'entra. La serata si è conclusa con denunce e feriti. Ce ne parla Chiara Sadotti. Ancora una serata di tensione in piazza della Badia, nel cuore del centro storico Aretino, dove si è consumata una violenta rissa. Qui gli animi si sono accesi attorno alle due di notte, quando due gruppi contrapposti si sono affrontati utilizzando anche bottiglie e cartelli stradali. A chiamare il 112 sono stati i residenti allarmati. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Nel frattempo due giovani si sono recati al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo con lievi ferite, causate probabilmente da una bottiglia di vetro proprio durante il tafferuglio. Gli agenti delle volanti, dopo un capillare lavoro di ricostruzione ed aver ascoltato le persone coinvolte, oltre ad aver visionato le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza a cittadino, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di rissa i quattro coinvolti ed un altro soggetto al momento ancora ignoto. Se il buongiorno si vede dal mattino, ci aspetta una calda estate, chiosa ha mareggiato un cittadino. Ieri sera infatti era la prima sera della maxisola pedonale. In questa zona ormai da anni i residenti e commercianti lamentano pesanti disagi, dai rumori molesti al degrado agli episodi di inciviltà. E c'è stato un incidente lungo la ciclopista dell'Arno nella zona di Rassina. Una coppia stava percorrendo il tratto in bicicletta quando uno dei due ha perso il controllo ed è finito rovinosamente fuori dalla pista. È scivolato lungo la scarpata, rotolando per diversi metri. Ferito si è ritrovato proprio sull'argine del fiume. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari dell'emergenza urgenza e i vigili del fuoco. L'uomo è stato raggiunto grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno recuperato con tecniche SAF, speleo alpino fluviale, e insieme agli operatori del 118 lo hanno sistemato sulla barella e trasportato fino all'elicottero Pegaso. Poi è stato trasferito all'ospedale Lescotte di Siena. E c'è stato un incidente ieri sera alle 23.45 avvenuto lungo la autostrada A1 direzione sud, in prossimità dell'uscita di Monte San Savino. Un auto articolato che trasportava generi alimentari si è ribaltato sul muro spartitraffico, invadendo parzialmente anche la carreggiata in direzione nord. Il conducente di 23 anni è stato preso in carico dai sanitari del 118 e trasportato in codice 2 al San Donato di Arezzo. Sul posto la polizia stradale, la Croce Bianca di Monte San Savino, la pubblica assistenza di Foiano e i vigili del fuoco. E ieri ad Arezzo l'ormai ex presidente dell'Inps per parlare di pensioni nel corso di un incontro organizzato da ACLI. Aumentare le opportunità di lavoro per giovani e donne, e questo è l'indirizzo di Tridico per il futuro del nostro paese. Grata Settimelli. Previdenza e pensioni al centro di un incontro con Pasquale Tridico, ormai ex presidente nazionale dell'Inps, l'attuale governo a guida centrodestra, ha commissariato nelle scorse ore Inps ed Inail con un decreto legge in attesa di rinominare i vertici dei due istituti. L'incontro alla Borsa Merci in piazza di sorgimento ad Arezzo era inserito tra le iniziative della rassegna ACLI Life Festival. Serve fare di più sull'occupazione, sull'occupazione dei giovani, delle donne, perché ci avviamo verso un sentiero pericoloso di instabilità con un declinio demografico che, come dire, morde, e quindi nel nostro sistema ripartizione sono richiesti almeno un rapporto di 1,5 lavoratori per ogni pensionato e noi stiamo sotto, siamo 1,4 e le proiezioni demografiche proiettano un rapporto ancora in riduzione verso 1,3 per ogni pensionato e questo non è sostenibile. Certamente servono anche gli immigrati, ogni paese ricco ha immigrati, non c'è dubbio. Noi siamo un paese ricco, se siamo un paese ricco attraversiamo una trasformazione strutturale che ci porta a comporre l'economia verso settori più altamente qualificati e man mano si liberano posizioni nei settori a più bassa intensità. Tutti i paesi ricchi hanno gli immigrati. E adesso spostiamoci in Casentino dove i carabinieri di Subbiano accompagnati dal sindaco Ilaria Maggini hanno restituito ad un 79enne del posto alcuni gioielli in oro che due truffatori le avevano sottratto il 27 marzo scorso. Un uomo, spacciandosi quale appartenente alle forze di polizia, aveva telefonato alla donna comunicandole che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e per evitare la carcerazione era necessario pagargli l'avvocato. Il complice poco dopo si era presentato dalla donna chiedendole una cauzione di 4.000 euro. L'anziana, colpita dalla notizia ricevuta, consegnò Monili per un valore di circa 2.000 euro. Grazie alla velocità della denuncia e al coordinamento della centrale operativa dei carabinieri, uno dei due truffatori, un uomo di origine campana, è stato individuato e fermato nella stessa mattinata dai carabinieri di Pontassieve mentre si dirigeva verso nord. È stato denunciato per truffa aggravata in concorso e sostituzione di persona. Oggi la restituzione dei Monili alla legittima proprietaria. E ancora cronaca, gli agenti della volante di Montevarchi sono intervenuti nel centro storico della città dove era stata segnalata la presenza all'interno di un'autovettura di tre persone sospette. Giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato e denunciato tre giovani intenti a fare uso di sostanze stupefacenti ed una di loro è stata anche ritirata la patente di guida. All'interno del supermercato di Via dell'Oleandro, invece, gli agenti sono stati allertati per il furto di uno zaino lasciato sul carrello della spesa. I poliziotti hanno rapidamente intercettato le due autrici del furto, che peraltro avevano già precedenti penali della stessa natura e riconsegnato il maltolto al legittimo proprietario. Ed hanno fatto molto discutere e anche creato reazioni a catena le dichiarazioni del presidente della regione, Eugenio Gianni, sulla stazione di Rigutino come ideale collocazione della stazione dell'alta velocità medio Etruria. Sull'argomento interviene anche il segretario del comitato stazione alta velocità di Arezzo, Domenico Alberti, in una puntata della nostra trasmissione Coffee Time. Ne sentiamo un estratto. Poi questa sera alle 21 va in onda l'intervista integrale. Vediamo. La scelta, la dichiarazione del presidente Gianni, è frutto di un accordo, tra l'altro maturato in seno, ad una concertazione tra le due regioni, quella Toscana e quella Umbria, passato al vaglio dei due consigli regionali fin dal 2014 e scritto nel piano regionale dei trasporti. Già il bivio ferroviario Arezzo Sud era il frutto di un audace studio portato avanti dall'allora assessore regionale ai trasporti, Vincenzo Ceccarelli, che per il tramite dell'ufficio studi di ben tre Atenei italiani aveva individuato, non per scelte politiche, ma per comparazioni tecnico-oggettive molto puntuali e rispondenti ai presupposti che oggi, più di ieri, la mobilità sostenibile, anche in termini di redditività, sostenibilità economico-finanziaria, bacini di utenza, impatto ambientale, sostenibilità, anche nel più ampio margine della neutralità carbonica richiedono. Quindi, di fatto, se Arezzo avesse e o intendesse maturare scelte campanitistiche, ben potrebbe dire avviciniamola addirittura in aderenza al territorio cittadino e quindi San Giuliano, indicatore battifolle. Così non è stato perché gli studi rigorosi, oggettivi, al vaglio anche del sindaco della città capoluogo, l'ingegnere Alessandro Ghinelli, lo hanno portato a ritenere oggettiva, fondata e satisfattiva, perfino delle stanze della Umbria, non soltanto quella perugina, in realtà, perché deve tenersi conto anche dell'Alta Valle del Tevere, della Valtiberina, delle Vallate Aretine. Così risultò, ma ripeto, dallo studio tecnico molto rigoroso e oggettivo, questo bivio ferroviario Arezzo Sud. Non è un caso del resto, guardando anche il territorio di Siena, oggetto di contesa, che Arezzo annovera tra le sue potenziali, ma reali anche condizioni, la linea direttissima. Linea che purtroppo nemmeno lambisce, né la città di Siena, né tantomeno quella di Perugia. Quindi non si capisce il motivo così portato in astratto e dalla governatrice Tesei con il suo assessore ai trasporti regionale, Melasecche, né ancor meno quella del sindaco Luciano Meoni, il fissarsi su questo criterio del confine. E dopo due anni di sperimentazione, Goccia Verde è pronto per entrare sul mercato e distinguere i prodotti agroalimentari che nascono facendo un uso sostenibile dell'acqua. A presentarla il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. Chiara Sadotti. Dopo due anni di sperimentazione, Goccia Verde è pronto per entrare sul mercato per distinguere i prodotti agroalimentari che nascono facendo un uso sostenibile dell'acqua e garantendo un rispetto quali quantitativo di questa risorsa. Il percorso, in linea con le disposizioni europee, inizia dal Consorzio di Bonifica è un marchio che coinvolge in modo volontario le imprese che utilizzano l'acqua a scopo irriguo. È un marchio volontario che certifica l'uso razionale, sostenibile, equilibrato della risorsa acqua. Un marchio importante che mette e certifica tutto un lavoro portato avanti dalla filiera. Da una parte dai Consorzi di Bonifica che gestiscono le reti di distribuzione collettive e dall'altra delle imprese agricole che ben conoscono il valore dell'acqua. Una notizia accolta positivamente dalle aziende agricole del territorio che considerano strategico anche l'ampliamento del sistema occidentale di Montedoglio per rafforzare così l'irrigazione collettiva in Valdichiana e Valtiberina superando il prelievo autonomo di gran lunga più impattante sull'ambiente. Avendo l'acqua pulita della diga del Montedoglio immetteremo sui terreni dell'acqua pulita e quindi avremo ancora meno impatto ambientale. E poi un impatto ambientale sicuramente inferiore perché l'acqua della diga del Montedoglio viene in pressione quindi non adopereremo le pompe a gasolio che abbiamo sui fiumi per pescare acqua. Certo che siamo attenti al consumo dell'acqua anche perché qui nella nostra zona fino adesso l'acqua non è una risorsa infinita ma bisogna risparmiarla perché sennò alla fine manca e anche quando ci sarà quella della diga la risparmieremo ugualmente. E adesso spostiamoci in Valdichiana il Museo Mike di Cortona inaugura le rinnovate sale dedicate alle bellezze egizie. Vediamo il servizio. Tra etruschi ed egiziani non c'era tutta questa distanza che si potrebbe immaginare. C'è una distanza cronologica certamente però questi due popoli si sono conosciuti e frequentati molto e gli etruschi hanno appreso molto dagli egiziani. Tra le collezioni del Mike il Museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona spiega quell'egizia interamente dedicata al mondo dei faraoni e del popolo del Nilo che oggi può contare su una nuova veste. È arrivata qui nel 1894 è stato un generosissimo dono di Monsignor Corbelli cortonese doc che ha fatto questa donazione generosa di questa collezione che aveva raccolto quando era in Egitto. Copre tutto l'arco della civiltà egiziana dalle origini fino alla sua fine e anche l'arco della vita degli esseri umani dalla nascita fino alla loro morte. Adesso il nuovo allestimento della collezione Egizia del Mike per un investimento complessivo che sfiora i 190.000 euro realizzato grazie ad un cofinanziamento tra il Comune di Cortona e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. È sempre bello vedere la scolaresca che si fermano davanti alle vetrine e le visite guidate che li accompagnano in questo mondo. Questo allestimento in realtà cerca di interpretare anche questa esigenza quella di permettere al visitatore adulto molto bambino di tutte le età e anche di tutte le formazioni di poter apprezzare questa parte del collezionismo sempre presente qui nell'Accademia e nel Mike ma che ora vive un po' di vita nuova attraverso l'iconografia, attraverso le immagini, i colori e anche le suggestioni che permettono di entrare fisicamente nel mondo che qui raccontiamo. Le opere sono state eseguite su sale già libere da precedenti allestimenti che ora sono state restaurate, consolidate e dotate di tutti gli impianti compreso quello di climatizzazione e riallestite. Completamente dell'operazione Mike che porterà sicuramente tantissimi visitatori complimenti anche a tutta la squadra che ha lavorato agli arredi quindi alla organizzazione delle sale cizie perché sono davvero stupende e aree anche climatizzate quindi diciamo che il nostro museo sta salendo anche in termini numerici tantissimi visitatori e siamo molto soddisfatti. E restiamo a Cortona dove domani nel centro storico ci sarà una giornata all'insegna dei fiori, del rame e degli esemplari di Porsche. Dopo il rinvio della scorsa settimana vivaisti e artigiani sono pronti a trasformare i giardini di Piazza Garibaldi e Repubblica e Signorelli mentre al parterre saranno di scena oltre 60 Porsche. Cortona in Fiore è una fiera organizzata dall'amministrazione comunale Confesercenti a cui si associa il mercato del rame grazie alla collaborazione del Consiglio dei Tersieri. Espostiamoci a Lucignano pomeriggio di festa ieri in città dove è stata inaugurata la nuova area inclusiva dei giardini pubblici di Lucignano uno spazio giochi adatto a tutti i bambini senza distinzione di sorta. Il progetto ha intercettato fondi ministeriali ed europei gestiti dalla regione toscana con il prezioso e decisivo contributo di Avis Lucignano. E restiamo a Lucignano perché la città saluta il maresciallo Franco Monnanni effettivo alla stazione della cittadina della Valdichiana che dopo anni di onorata carriera va in pensione. Il maresciallo è stato salutato nella sala consigliare dal sindaco Roberta Casini e dal capitano della compagnia carabinieri di Cortona il capitano Antonio De Santis. Nell'occasione è stato anche dato il benvenuto al carabiniere Stella Isabella neoarrivata alla stazione carabinieri di Lucignano. E adesso torniamo ad Arezzo perché l'edizione di maggio della Fiera Antiquaria si arricchisce con il Dandy Days maestri d'eleganza per le vie del centro un raduno dedicato alla bellezza e allo stile. Il servizio. Quest'anno ci sono tante persone nuove che sono venute addirittura da Montpellier dal Belgio, dall'Olanda e poi tanti italiani dal sud e dalla profonda Sicilia arrivare fino a Udine. Barbe definite, baffi eleganti, cappelli a cilindro, coppole ed abiti eleganti insomma tutto ciò che non può mancare ad un gentleman moderno. Ad Arezzo è così tornato il tradizionale appuntamento con i Dandy Days. Torna anche la collaborazione con Casa Tevenin. I fondi vanno a Casa Tevenin per quest'anno per ristrutturare la casa dei neomaggiorenni. L'anno scorso, contributo, abbiamo comprato un pulmino per i ragazzi e è stata una grande soddisfazione. Un appuntamento come sempre in concomitanza con la Fiera Antiquaria scenario perfetto per celebrare l'eleganza. Lungo le vie del centro storico aretino infine è possibile immergersi anche nelle affascinanti atmosfere vintage. Si va da grandi marche che i visitatori possono trovare come a cose anche molto più semplici ma sempre nell'ottica del vintage, nell'ottica del buon gusto e di espositori che ormai vengono sia da Roma che da Reggio Emilia da varie parti d'Italia. Vedo che sempre più ragazzi molto giovani si innamorano del vintage e cominciano a riscoprire uno stile proprio invece di essere uguali a tutti che è una cosa bellissima. È molto personale. E domani l'ingresso a Casa Bruschi sarà gratuito come tutti i musei del gruppo Intesa San Paolo in linea con quanto stabilito dal Ministero della Cultura per la prima domenica del mese. Sarà possibile visitare la collezione del noto antiquario e la mostra alla sottilità dell'aria Arezzo e il suo territorio negli archivi alinari. Alle ore 18 è in programma anche il terzo appuntamento della diciottesima stagione concertistica internazionale organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi che avrà come protagonista il flautista italiano Alberto Navarra. Suonerà insieme alla pianista Martina Consonni un repertorio con musiche di Mozart, Pollec, Martien e Frank. E ci sarà una cena a spettacolo di solidarietà a favore del Calcit in programma venerdì 12 a Subbiano. Vediamo. Una cena a spettacolo a Subbiano e anche in questo caso si pensa alla musica, al buon mangiare ma anche alla solidarietà. Sì, la città della musica è la nostra associazione che intorno a noi sono 14 gruppi che suonano orchestre e orchestrali. C'è una spettacolo, questa è la terza che facciamo presso la sede del prologo di Subbiano. il 12 maggio alle 20 e le band che suoneranno sono i Tilti, l'Acustica, l'ID di Marzo, la Quarta Mano e la Air Cover Band. È un momento di solidarietà anche nei confronti di Calcit perché il ricavato comunque sarà di Calcit e l'invito è di essere presenti perché la cucina è di buon livello, si balla, ci sarà tanta musica, la solidarietà, quindi insomma è sicuramente una serata importante. C'è una spettacola e lo saranno presenti delle band a retine? Sì, naturalmente le band a retine. A parte questa volta abbiamo una band nuova, sono gli Acustica, lo voglio precisare che lì nell'Acustica ci sarà un personaggio a livello insomma nazionale perché è il bassista dei Panda, un'orchestra che andava negli anni Ottanta alla grande. Comunque ecco l'appello che voglio fare di intervenire numerosi perché più incassiamo e più diamo al calcino e quello è importante per noi. Come ci si può prenotare? Ci si può prenotare come è scritto nel manifesto telefonando mi e mi raccomando perché più siamo più diamo il contributo al calcino ma anche la soddisfazione dei nostri ragazzi che si esibiscono e più gente c'è e più è soddisfacente. Sono tantissime ormai le iniziative che pensano al calcino, come verranno utilizzati questi buoni? Dunque intanto grazie alla città della musica perché ormai da tanto tempo diciamo ci sono vicini e questi fondi saranno destinati ormai come da tempo al servizio di cure domiciliari oncologiche il servizio scudo che è veramente un servizio apprezzato e totalmente gratuito per chi lo riceve. E adesso passiamo alla pagina sportiva ultimo atto del campionato l'Arezzo appoggi Bonzi con la serie C già in tasca ascoltiamo mister Indiani alla vigilia della partita. Ha filato via velocissima velocissima ma tutte le andate belle filano via velocissime davvero molto veloce. Ripensando allo stato d'animo che aveva quando iniziò questo campionato che cosa è cambiato di più al di là del fatto che l'Arezzo l'ha vinto e non è un cambiamento da poco? Ma io speravo ecco venendo qua speravo che venisse fuori un'annata così però è chiaro la certezza la certezza non c'è mai specie quando poi misero il ricordo il nostro girone uno pensa dice guarda una realtà come te può fare può dare fastidio però poi ecco poi però è andato tutto iscio è cambiato ripeto è cambiato più o meno era come speravo fosse succedesse ed è successo riguardo la partita di domani le chiedo se ci sono giocatori indisponibili oltre a Gaddini immagino Poggesi che già sapevamo Gaddini e Poggesi credo proprio abbiamo finito la stagione altri ci sono degli acciacchi vari è chiaro vogliamo vedere se arriviamo nel miglior modo possibile alla prima partita della Pusco detto che alcuni con acciacchetti certamente non li rischiamo Poggesi è il miglior attacco del campionato ha un terzo posto che potrebbe diventare secondo ma insomma c'è anche il Gavorrano dietro insomma domani sarà una partita che loro giocheranno con lo spirito da tre punti insomma l'Arezzo anche perdere di nuovo forse non sarebbe il massimo della vita ma è chiaro che come abbiamo inteso noi l'annata la rosa l'utilizzo io credo sia obbligatorio far giocare quelli che hanno giocato meno durante l'anno perché sono stati determinanti per farci vincere il campionato compreso tipo Ardovini che in campionato aveva fatto 45 minuti forse 60 però nell'allenamento resta un portanto per gli altri è fondamentale io credo per forza andavano fatti giocare per lì è chiaro se li fai giocare tutti insieme con altri con più minutaggio e magari aveva andato tutto tornano anche le sconfitte ma questo assolutamente non inficia niente e continua a dire questa che ho già detto altre volte e continua a ripetere non mi diventerà mai una colpa aver vinto i campionati in tre giornali prima sembra bello se no mi chiedo invece mister se questa pull scudetto può diventare veramente un obiettivo o se anche quella poi è subordinata anche alla condizione psicofisica con cui ci arriverà la squadra è chiaro la società ci tiene e noi faremo il massimo per farlo però sono partite io l'ho già fatta altre volte l'anno scorso tra l'altro andò a vedere anche la finale la fece l'appoggi-ponsi io credo era una partita scapola scapola ammogliati a 40 gradi un ritmo sono partite però è chiaro cercheremo di fare il nostro meglio quello che sarà il nostro meglio attuale ripeto come ho detto prima preferiamo non far giocare in campionato alcuni e mezzo e mezzo per poterli magari avere a disposizione nella cusco scudetto solamente questo credo che determini che cosa riteniamo più importante noi a questo punto anche perché le manca quel tricolore dilettanti ha già vinto anche quello e questa me l'ha sfuggito ha vinto anche quello errore 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 con la massese 2003-2004 finale di Hop Italia campionato e scudetto in finale il Manfredoni a Orlietro sarebbe bis sarebbe bis sì perché quello l'ho già vinto e torneranno in campo anche le ragazze dell'Arezzo dopo quattro successi consecutivi la CF Arezzo riceve in casa il Cittadella terzo in classifica le ragazze di Mister Testini dopo le convincenti vittorie contro Chievo Sassari Torres Trento e Tavagnacco sono alla ricerca del quinto risultato utile che le attenerebbe ancora di più dalla zona retrocessione e con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata arrivederci a presto a presto Grazie a tutti.